Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lele che la dedica a Vanessa e vuole che parli del film del 2010 di Guy Mosh, Burraku. La Burraku è un film molto particolare, è una specie di fantasy azione a palla di fuoco che segue alcuni stilemi del videogioco, tantissimi combattimenti con vari killer che i nostri dovranno sconfiggere. Il film è mirato in un futuro ipotetico dove le armi dal fuoco non esistono più e dopo tal Nicola Taglialegna di mestiere fonda un'organizzazione che diventa capo della mala di tutta l'Euroasia chiamata nel film Est Atlantico. Quando viene sfidato da altri manda il suo killer numero uno e li ammazza tutti e quindi diventa il capo indiscusso. Nel frattempo noi vediamo due personaggi, uno chiamato il Vagabondo interpretato da Josh Nartnett e l'altro il Samurà interpretato da Gakt. I due hanno metri completamente diversi uno deve andare in un saluto per incontrare Woody Harrelson mentre l'altro sta avviandosi verso il ristorante giapponese dello zio. Iniziano fra di loro dei problemi ma si uniranno per poi combattere Nicola e Demi Murri nel mezzo. Insomma, un film molto strambo e particolare questo Murra, un film che si rifà chiaramente a un'estetica di videogioco ma che riesce a essere divertente. Josh Nartnett è bravo, la fotografia è chiaramente stilizzata, coloratissima. Sono di fronte a un film che fa dell'action, che fa degli scontri, uno dei suoi modi di vivere più importanti. Ed è un film strambo, uno di quei classici film che sono diventati cult nel tempo e che meritano di avere un'occhiata anche per chi ama appunto il genere, proprio perché ci si diverte fino in fondo. Insomma, è un classico film che si unisce alle arti marziali orientali classiche, Spadaccini a palla di foo e come ho detto Storie d'amore, si infiltra dentro anche Murri, Murri, Stefano e il suo personaggio, però un film chiaramente non eccezionale, chiaramente nemmeno bellissimo, probabilmente un filmetto ma che a me comunque ripeto ha divertito proprio per la sua combinazione assurda di alcune sequenze di azione e soprattutto per una trama arzigogolata e particolare che sembra però riportare quasi quasi all'western classico nonostante sia molto postmoderno come ho messo in scena. La voglia è anche un po' che quella di Sin City, un po' quella di Kill Bill, una voglia insomma di un certo tipo di pulp che comunque a un certo punto funziona e diverte. Questo è, se non mi burrà, un film che comunque non vedo da qualche anno, cercherò di vedere se qui sotto è uscito un video, non lo so, in Italia, che era un film comunque, seppur cazzatone, che aveva al suo interno degli elementi importanti, il montaggio era interessante, così come ho detto come la fotografia e la musica. Detto ciò, un filmetto per divertirsi ma è un filmetto insomma di quelli che fanno passare il tempo veramente molto molto volentieri, quindi ringrazio Lele per averne fatto parlare e la dedico pure io a Vanessa questa mini recensione così come gliel'ha dedicata Lele e spero insomma che qualcuno riscopra questo filmetto che ripeto non è assolutamente un capolavoro ma è divertentissimo, è diventato un cult assoluto ed è anche un film insomma che in molti cercano e non trovano. Ripeto, proverò a mettere qua sotto il link, donate su Patreon, fate quello che vi pare, mi piace, è tutto qui sotto, iscrivetevi al canale, fate ciò che volete e se amate le arti marziali schizzoli se amate i videogiochi, se amate i film diciamo quasi a schema e questo è il classico film perché fa per voi ogni killer è diverto, saranno una decina i killer che dovranno affrontare un film insomma che usa le arti marziali anche come coreografia in campo e che non lascia niente al dettaglio, certo gli effetti forse sono un po' troppo digitalizzati e adesso un po' datati ma resta il fatto che il film è un cult e nessuno gli toglie questo suo traguardo